Con Nando Scuderi, quarto anno consecutivo che partecipa al nostro torneo, seconda partita, seconda sconvitta, anche con una squadra forte come Trattori al Molino. L'unica nota positiva della squadra è che con due nuovi innesti è migliorata tanto. Nando volevo fare complimenti a Savo Quattrocchi, l'organizzatore e tutto lo staff per lo spegnito torneo. Questo è quanto anno, purtroppo abbiamo cominciato male rispetto agli altri anni, speriamo che la società con il massimo dirigente Mario Basile porti qualche altro rinforzo e speriamo di proseguire parlando nel miglior modo possibile.